è una storia di odio e di amore tante volte avrei voluto che mio padre venisse da me dice se ma piantiamola smettiamola mettiamoci d'accordo tu vedi le cose in un modo io le vedo in un altro troviamo una sintesi oppure troviamo dei sistemi anche manageriali è mai possibile che un'azienda che all'epoca aveva 13 mila dipendenti non avesse un consiglio direttivo un comitato all'interno dove ci si potesse confrontare no non era così era un'azienda che dove appunto andavamo per due strade che non si incontravano mai e se lunga è uno storico protagonista della grande distribuzione italiana di proprietà della famiglia caprotti si è sempre distinta per la qualità delle sue prestazioni tra le migliori in tutta europa pochi punti vendita e tutti estremamente profittevoli con fornitori accuratamente selezionati che trovano estrema soddisfazione dalle loro vendite nacque per volontà dell'imprenditore finanziere americano nelson rocfeller alla fine degli anni 50 a milano e questi si avvalsi anche del contributo di due giovani imprenditori italiani bernardo caprotti e marco brunelli ma della vera storia di esse lunga delle sue origini dei suoi soci iniziali delle diatribe che hanno portato bernardo caprotti ad essere l'unico proprietario dell'uscita di marco brunelli e sino alle vicende interne alla famiglia caprotti si è sempre saputo poco bernardo non amava i media e non rilasciava dichiarazioni alla stampa salvo poi scrivere un famoso libro falce carrello che oltre a passare alla storia come il manifesto della parzialità della politica nei confronti dell'impresa privata non cooperativa si ricorda anche perché per la prima volta menzionava fatti che riguardava i suoi familiari e l'azienda in verità il dissidio che per molti anni ha generato tensioni crisi familiari gravi divorzi cause nei tribunali e quindi divenne molto inevitabilmente di pubblico dominio fu quello tra bernardo e suo figlio giuseppe ex dirigente e amministratore delegato di esse lunga negli anni d'oro dell'azienda e della grande distribuzione italiana ovvero gli anni 90 e di primi anni 2000 a colpi di denunce in tribunale e di accuse reciproche questo forte e lacerante dissidio si è trascinato sino a settembre del 2016 ovvero alla morte di patron bernardo la community del mass market retail ha reso icona al padre bernardo e ignorato in parte la figura del figlio giuseppe nel 2020 lui e sua sorella violetta figli della prima moglie hanno risolto l'avvertenza sull'eredità con la figlia del secondo matrimonio marina e ceduta a lei le quote uscendo definitivamente dalla zetta giuseppe rilasciò un'intervista all'espresso nel 2013 dove provo a dare la sua versione dei fatti che lo ponevano al padre questo gesto fu ovviamente criticato dopo la morte del padre e dopo la cessione delle quote di esse lunga giuseppe è deciso di pubblicare un libro edito da filtrinelli dal titolo le ossa dei caprotti il libro racconta la storia della famiglia almeno a partire dai primi dell'ottocento ed arriva a descrivere tutti i dissidi tra lui e il padre ma anche quelli precedenti da questo ed i suoi fratelli e la stessa madre non ne esce un quadro edificante e per questa ragione in molti hanno criticato il libro opponendogli che oggi non c'è controparte a rispondere e che questo il libro è inutile dopo il beneficio dell'eredità abbiamo realizzato questo podcast chiedendo a giuseppe caprotti se ha voglia di rispondere a queste osservazioni a queste critiche e se vuole spiegare perché ha scritto un libro ma soprattutto in noi c'era la curiosità di comprendere se nella storia che ha descritto e raccontato c'è anche qualcosa che non ha potuto pubblicare ebbene le sue risposte lo ascolterete sono nette e vanno davvero ascoltate sono andrea meneghini e questo è un podcast di gilio news tu quando hai capito che avresti dovuto lavorare in esse lunga l'ho capito quando mi sono laureato in storia ma non sentivo la vocazione per l'insegnamento e allora io ho detto ma forse provare visto che mio padre ci teneva molto sarebbe stata una cosa giusta e quando eri bimbo 8 10 anni 12 anni tuo papà non ti diceva verrà in azienda lavorerai un giorno tu sarai no quello devo dire ho mai fatto la cosa carina che facevamo era andare in azienda comunque a quando ero bambino ricordo del magazzino nuovo delle se lunga che allora tra l'altro esiste ancora e andavamo a far correre il cane vicino al magazzino quando era il cane teo che peraltro è citato nel libro senti il tuo libro è un libro articolato è un libro che racconta la storia di una famiglia sostanzialmente anche se poi si potrebbe dividere in più parti è tutto legato bene la prima parte è un escursus storico della famiglia caprotti non solo caprotti c'è padre e madre sono due famiglie in verità benosta quinta valle caprotti insomma si ripercorre la storia di una famiglia della alta borghesia in un periodo in cui nasceva la borghesia in italia attraversa le due guerre attraverso le vicissitudini di famiglia ed arriva poi alla raccontare non solo la nascita dell'azienda S lunga che poi diventa l'azienda di famiglia ma poi entra e nella seconda parte del libro tratta temi che sono più legati a te al rapporto con tuo padre e anche a ciò che tu hai dato all'azienda in questo racconto però ci sono alcune cose secondo me che vale la pena anche raccontare seppur brevemente in questa nostra chiacchierata e che poi fanno parte di un fil rouge che all'interno del libro che è la difficoltà relazionale dentro la famiglia caprotti da secoli quindi tu di queste cromosomi non dico alterati però diciamo peculiari ne avevi coscienza quando eri giovane o lo hai capito dopo? Allora io l'ho capito l'ho capito quando c'è stata una grande rottura in famiglia perché noi vivevamo tutti in questa casa di famiglia dove abito adesso io però noi viviamo tutti sotto lo stesso tetto sin da bambini fino a quando io non sono andato a scuola a Milano dove peraltro a Milano vivevamo tutti sempre sotto lo stesso tetto la nonna stava al primo piano noi stavamo al secondo e lo zio Guido stava al terzo piano quindi noi ci vedevamo tutti i giorni solo che nel 1970 la famiglia si è completamente spaccata si è spaccata e non abbiamo più stata possibilità di rimediare nel senso che i fratelli Guido e Claudio hanno poi avuto delle piatribe legali con mio padre in realtà erano Guido e Claudio con la loro mamma nonna Marianne contro quindi dal 70 in poi la famiglia no quindi tu eri piccolo e lì ho capito lì ho capito che c'era c'era un grosso problema la famiglia Caprotti è una famiglia di imprenditori dall'ottocento nel mondo del tessile quindi chi oggi pensa che Caprotti è da associare solo a S.Lunga perché comunque da molti anni è da associare a S.Lunga la genesi non è quella perché la genesi è invece la manifattura Caprotti che ha una genesi a sua volta peculiare perché parte come una commerciale per poi diventare industria di produzione e cadere anche in vicissitudini complicate perché negli anni primi novecento quindi periodo eccezionale per il pianeta perché era un momento di scoperte di tutti i tipi insomma dagli aerei, gli sport, cinema, tante cose che si affacciavano nel mondo in quel momento lì nessuno poteva prevedere la guerra che poi sarebbe arrivata subito dopo un ottimismo generale che invece per quello che riguarda la famiglia Caprotti inciampa sulla crisi del cotone poi il cotone fa il bello e il cattivo tempo nel mondo del tessile quindi la crisi del cotone del 1909 porta alle prime difficoltà imprenditoriali della famiglia quindi questo libro comunque è da leggere anche sotto il profilo dell'escursus storico di una famiglia imprenditrice del nord e in parallelo con le vicissitudini del nostro paese diciamo che sicuramente tra le due guerre la manifattura Caprotti non ha avuto grandi sorti si riprende grazie al piano Marshall e grazie a tuo nonno Peppino e il libro comincia proprio con un evento tragico che è la morte di tuo nonno Peppino che figura era quella di tuo nonno Peppino? allora io non l'ho conosciuto perché sono nato otto anni dopo mi hanno sempre parlato come di persona molto molto capace la fortuna della famiglia che ci ha permesso poi di partecipare all'avventura di Asselunga è stata fatta da lui da lui tra l'altro con l'aiuto della nonna perché la nonna aveva un parente che lavorava nell'ufficio di Truman quando Truman aggiudicò i fondi del piano Marshall parliamo all'epoca 48 perché il piano venne deciso nel 47 ma poi il piano venne sviluppato nel 48 di 17 miliardi di dollari dell'epoca cioè un fiume di denaro incredibile che peraltro era stato verrà devoluto anche non solo per ricostruire l'Europa ma per contrastare il comunismo con cui poi ci croceremo anche con Asselunga quindi la nonna ha dato il suo contributo e ha dato anche un grosso contributo poi anche in termini pecuniari per comprare l'azienda dagli americani gli americani che sono stati i fondatori e i gestori della Asselunga nei primi anni, nei primi 8 anni dalla nascita cioè dal 57 al 65 ecco allora in quel periodo lì nasce Asselunga ma in verità in Italia nascono molte aziende anche moderne della distribuzione mi viene in mente per esempio il Cavalier Podini giusto in quegli anni anche lui cominciava la sua avventura imprenditoriale nel retail lice star uguale subito dopo, qualche anno dopo ma insomma è un periodo di boom economico per tutto il paese e quindi di conseguenza anche il mass market retail segue a ruota gli americani che ci avevano salvato durante la seconda guerra mondiale giustamente volevano poi tutti i loro ritorni si sa ancora oggi l'America non si muove con lo Stato lo Stato si muove per i privati ancora oggi funziona così e quindi i privati arrivano e pensano di fare qualcosa che stavano già facendo altrove intuiscono che il mercato da alimentare qui è ancora acerbo e quindi comprendono che è Milano cioè la zona più ricca del paese su cui sviluppare il loro progetto retail e come lo fanno? Chi approcciano? Chi si avvicina a loro? Allora il grande protagonista di tutta questa vicenda è Nelson Rockefeller Nelson Rockefeller già negli anni 30 parlava di responsabilità sociale in Venezuela perché loro estraevano petrolio in Venezuela e si rese conto che gli operai non erano ben nutriti quindi decise di provare ad abbassare il prezzo degli alimentari si dedica all'agricoltura negli anni 40 fonda la prima azienda di supermercati in Venezuela visto che funziona nel 47 subito dopo la guerra dove gli americani sviluppano un approccio al cibo importantissimo per le loro truppe quindi cercano di abbassare il prezzo del cibo ed aumentare le quantità dopo nel 47 Rockefeller fonda un'azienda che si chiama la Ibeck che sarà poi dieci anni dopo la fondatrice dell'esse lunga nel frattempo nel 1955 l'ex colonnello dell'OSS James Hugh Angleton che aveva vissuto in Italia per otto anni prima della guerra approccia come presidente della Camera di Commercio americana Marco Brunelli che ha organizzato una mostra una mostra su 700 veneziano in questo ambito lui tasta il terreno per capire se ci sono imprenditori italiani disposti a seguire Rockefeller in questa impresa alla quale darà forma due anni dopo ma nel frattempo nel 1956 Richard Bogart il futuro amministratore delegato del Selunga viene in Italia e conferma a Rockefeller che ci si può investire scegliendo appunto la piazza di Milano Marco Brunelli chi opera nel retail quindi chi sa le vicissitudini del mercato è il attuale proprietario ultranovantenne del Finipero ipermontebello SPA anche UNES insomma un universo che ha costruito poi successivamente però è stato colui che ha approcciato per primo perché era uomo di mercante d'arte infatti poi la sua vocazione artistica la si rivede spesso nell'evoluzione anche di Finiper insomma è un uomo esteta straordinario e lui che rapporto aveva con i caprotti? era amico di Guido Guido che è mio zio è il secondo genito dei tre fratelli caprotti e lui ha un rapporto fraterno con questo mio zio con il quale peraltro fondano GS 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 la fondano nel 1960 a Roma perché? perché chiedono a Bogart se fosse interessato ad andare a Roma Bogart lo esclude e quindi Marco Brunelli e Guido Caprotti fondano la romana supermarket però mio padre si adombra non è una cosa che gli faccia piacere e da lì iniziano a non parlarsi a non essere più d'accordo su nulla nel frattempo gli americani danno la loro disponibilità a vendere quella che adesso chiamiamo S lunga ma all'epoca si chiamava supermarkets italiani e quindi gli screzzi aumentano perché? perché mio padre riesce a diciamo ad avere da meglio su Brunelli fa un'offerta agli americani importante Brunelli venderà la sua quota alla centrale di Michele Sindona guidata da Michele Sindona nella quale peraltro c'erano invece come azionisti con tutta una serie di personaggi di altissimo livello come i buonomi eccetera da qui la S lunga diventa vostra in buona sostanza sì c'è qualche passaggio con l'industria le quote di cedute dopo qualche anno diventa tutta vostra cosa fa di buono S lunga negli anni in cui tu non lavorare a S lunga quindi da quando diventa vostra a 65 che diventa vostra fino al 90 diciamo ci sono questi 25 anni quali sono i meriti di S lunga sul mercato in questi anni qua? allora i meriti sono sicuramente di proseguire l'opera degli americani ricordiamoci che appunto loro vengono dall'agricoltura poi passano ai supermercati e quindi hanno sempre sempre in mente un obiettivo alla fine anche politico che è quello di abbassare i prezzi del cibo noi siamo hai parlato dell'Italia ma anche la Francia e l'Inghilterra hanno imitato il self service che è un'impronta americana totale cioè Carrefour Oshon Tesco Sainsbury hanno tutti studiato quello che hanno fatto gli americani studiato e applicato quello che facevano gli americani forse gli unici indipendenti da tutto questo ragionamento sono i discount tedeschi che si sono auto inventati ma per il resto i supermercati come sono oggi sono americani detto ciò gli americani già nel 59 proprio per abbassare il prezzo dei beni fanno una cosa rivoluzionaria che in Europa fa solo la Migros o Migros se vogliamo dirlo ticinese svizzera cioè producono in proprio dei prodotti a marchio privato quindi lanciano che all'epoca avevano dei nomi di fantasia ma lanciano i primi prodotti freschi e non quindi confezionati e non quindi pane pasta gelati caffè e quant'altro e quindi sempre in un'ottica di abbassamento dei prezzi fanno questa grossissima operazione commerciale quindi all'esse lunga nasce ci sono i commercianti che fanno i picchetti davanti ai supermercati e invece ci sono tutti i clienti che vogliono assolutamente accedere a questi beni che non hanno mai quasi visti tutti insieme e che costano molto meno che nei negozi mio padre sicuramente ha avuto il grandissimo merito con i suoi collaboratori schiavoni degenis eccetera di proseguire su questa scia e di implementare tutta la parte del fresco dove inizieranno ad approvvigionarsi direttamente dai produttori che non è assolutamente una cosa banale perché io stesso nel mio percorso formativo ho passato giornate intere agli ortomercati piuttosto che ai mercati della carne eccetera eccetera cioè c'era un passaggio che S.Lunga ha assolutamente saltato quindi abbassando di nuovo i costi per i costi e aumentando anche la qualità perché devo dire la logistica in cui erano maestri gli americani è stata applicata in modo geniale dai suoi successori ecco proprio sulla logistica una curiosità io ho ascoltato una voce dicerie racconti epici attorno a S.Lunga e magari te ne chiedo conferma magari proprio la fonte forse era tuo padre non lo so però ti racconto la storia la racconto anche a chi ci ascolta che quando gli americani arrivarono qua dissero allora si fa così 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 e qualcuno non so chi disse allora i negozi li apriamo qua di qua di qua e gli americani dice no prima mi dite dove sta il centro logistico dopo da lì decidiamo dove stanno i supermercati questo racconto e intanto ti chiedo se corrisponde a verità assolutamente sì e io lo sentivo dire 10-15 anni fa cioè nel 2010 nel 2008-2010 perché perché ancora 10-15 anni fa il retail moderno non comprendeva la strategicità del Cedi e le distanze verso i negozi cosa che invece S.Lunga aveva assimilato grazie agli americani fin dal primo giorno e quindi fin da Nel 1-15 anni quindi sull'ottimizzazione appunto di costi eccetera quindi è un'ottimizzazione ma soprattutto c'è un concetto che farebbero bene chi non ha ancora capito a capirlo c'è la questione della freschezza cioè se io riesco a consegnare tre volte al giorno invece che una ogni tre giorni è ovvio che cambia tutto certo questo vale per il fresco ma vale anche per la cosiddetta drogheria quindi quando tu arrivi in S.Lunga diciamo fine anni 80 seconda parte di anni 80 tutti questi concetti erano assolutamente chiari in azienda sì allora diciamo che era molto chiaro il concetto l'esecuzione a parte nel fresco era diciamo molto confusa molto confusa perché non c'era nessun sistema e parlo della parte confezionata del food del cibo nessun sistema di controllo nella gestione dello stock e degli ordini dello stock a magazzino sì ma dello stock a negozio no e quindi io ho assolutamente contribuito in modo direi determinante a mettere sotto controllo e a gestire in modo diciamo intelligente e calibrato tutto l'assortimento food dei punti di vendita vuol dire per i tecnici a non avere più di un giorno e mezzo di un giorno due giorni di merce in giacenza nel punto di vendita il che anche questo incide pesantemente sia sui costi che sulla freschezza dei prodotti per i biscotti se hai sette pallet in magazzino non hai merce fresche ecco un'altra cosa e te la domando che potrebbe essere ancora attribuibile ai meriti di S.Lunga prima della tua entrata è la strategicità delle locations cioè il fatto che come diceva il buon Riccardo Francioni di Selex i supermercati non hanno le ruote per cui la ottima posizione è il primo ingrediente per il successo di un supermercato quindi S.Lunga ha sempre avuto delle ottime locations quindi questo è ancora qualche cosa che parte dagli americani o comunque da tuo padre assolutamente sì questo è stato è stato il punto fondamentale credo di partenza questo credo che possa essere tranquillamente attribuito a mio padre perché quando è stata comprata l'azienda tra il 61 e il 65 perché è stata una cosa progressiva poi gestita dal 65 in poi da noi diciamo dalla famiglia dei manager che ho già citato questo l'ha fatto c'erano pochissimi punti di vendita quindi diciamo che i premi sono stati fatti proprio dalla ibec cioè nel libro si parla i manager americani si parlano di l'over non parlano dell'essere lunga parlano della ibec questo da già come si dice dall'idea dell'impronta ma poi dopo sono stati costruite delle cose molto importanti molto importanti posizioni molto belle devo dire che lo zio mio zio Claudio Caprotti ha dato il suo contributo pur essendo uscito ai primi anni 70 dicendo che i punti di vendita dovevano essere più grandi e piano piano sono diventati sono passati da essere dai 600 700 metri quando sono entrato io in azienda c'erano dei 1500 metri poi si è fatto il salto successivo verso i superstore che però nessuno sapeva come riempire adesso infatti ci arriviamo un'altra cosa che si è sempre detta almeno fino a qualche anno fa oggi i supermercati sono tutti costosissimi nelle aperture milioni e milioni di euro una volta molto meno invece quello che si è sempre saputo è che un'apertura di S lunga costava almeno 10-15 volte qualsiasi altra apertura ecco anche questo era un imprinting di tuo padre quella della cura nei materiali sì sì decisamente ha sempre ha sempre voluto lui secondo me era un eccezionale sviluppatore e immobiliarista e un architetto mancato ecco e tu lo dici nel libro avrebbe sarebbe stato molto la passione per l'architettura e il resto diciamo che gli interessava ben poco soprattutto gli è interessato probabilmente negli anni 60 negli anni 70 ma già quando io sono entrato proprio non infatti se ne occupava schiavoni della parte commerciale quando commerciale se ne occupava schiavoni e se ne occupavano De Gennis perché De Gennis ha sempre avuto una grande passione per i prodotti freschi però questo non bastava più all'essere lunga del futuro e infatti adesso ci arriviamo ora cosa succede succede che alla metà degli anni 80 a Milano da bere in inizio dalla globalizzazione il mondo comincia a cambiare anche la grande distribuzione italiana arrivano gli stranieri arriva Ocean arriva Carrefour arriva il concetto di ipermercati arrivano anche discount qualche anno dopo però insomma prima ancora arrivano gli ipermercati e arrivano le grandi metrature da questo punto gli italiani che fino al giorno prima erano abituati a concepire il supermercato come vicinato puro il cliente con cui si è amici e con cui si ha un rapporto fisico quasi morboso per certi versi si trasforma in qualcos'altro il mondo cambia siamo proprio a un crocevia del retail italiano qui la camera di distribuzione italiana cambia di colpo infatti quando si racconta la storia della GDO la moderna distribuzione parte proprio in quegli anni lì in buona sostanza e sono gli anni in cui tu arrivi quindi ci voleva qualcosa di nuovo che cosa hai fatto tu in quel periodo lì in un periodo di grande cambio per la grande distribuzione italiana nel momento in cui arrivano gli stranieri con un concetto di ipermercati dove molti vedi Bennett vedi gigante vedi dopo COP c'è un punto di vita di Bennett a Udine che è stato il cui terreno è stato comprato nel 1995 mi pare ed è stato aperto nel 2008 quindi si trattava di acquistare grandi appezzamenti di terreni con autorizzazioni estremamente complesse e che avevano dei tempi di gestione molto lunghi anche COP ci si buttava in quel momento lì tutto il mondo pensava che un pezzo di distribuzione stava morendo che era quella storica quella dei piccoli supermercati e il nuovo doveva essere quello addirittura in sostituzione dei centri cittadini questo era l'Italia degli anni 90 tu eri in S lunga e invece che cosa pensi di fare? allora io sinceramente credevo negli ipermercati lo dico lo dico senza senza remor ma non da un punto di vista gestionale credevo da un punto di vista assortimentale diciamo che abbiamo avuto un confronto prima che io partissi per gli Stati Uniti io sono stato negli Stati Uniti due anni l'era 88 e l'era 89 prima e lì mio padre ha detto assolutamente gli ipermercati non li faremo mai devo dire che ha avuto assolutamente ragione era assolutamente un modello impossibile per noi anche perché sarebbe stato voleva dire creare delle aziende a sé e quindi creare anche la sottura di costi spaventosa quindi parto per gli Stati Uniti e cosa vedo? vedo i superstore i superstore a Chicago non solo della Dominix dove lavoravo ma anche della Jewel che American Stores era la più grossa più grossa azienda distributiva degli Stati Uniti e poi c'erano tanti altri non c'era ancora Walmart non c'era quello l'ho visto dopo e e quindi dico papà bisogna secondo me visto che tu stai costruendo le superfici molto grosse e lui stava andando dai 1500 stava passando ai 2500 per poi andare ancora oltre ho detto guarda vieni e vedi che cosa sta succedendo qua e da lì siamo partiti nell'89 col progetto dei superstore il primo è stato sicuramente via di Novoli a Firenze dove peraltro io a Firenze ho vissuto un anno e mezzo passavo le mie giornate in questo superstore o a Firenze diciamo la sera ma insomma gli uffici c'era la sede secondaria di S.Lunga e abbiamo sperimentato tutto quello che si poteva sperimentare in questo superstore dalla frutta verdura sfusa che è stata una rivoluzione pazzesca osteggiatissima l'azienda a tutta invece una serie di prodotti e servizi nuovi per S.Lunga ancora oggi si distingue in maniera netta per questo profondissimo reparto di ortofrutta che sembra non finire mai che è un piccolo supermercato nel supermercato di chi è opera quest'idea? Come dicevo è un'opera di compromessi perché sicuramente per esempio io e il vicepresidente di allora che era Giovanni Maggioni più il direttore delle vendite che era Marino Fineschi volevamo la frutta sfusa e quindi abbiamo costretto tra virgolette l'azienda a cambiare impostazione allora adesso il covid ha cambiato probabilmente tutto ma quando io sono uscito dall'azienda nel 2004 un terzo della frutta verdura che veniva venduta era sfusa quindi il fatto di comprare un limone secondo me è anche una questione di democrazia di libertà insomma è un paese di gente pensionati e di gente che vuole anche spendere poco giustamente e non vuole mettersi quattro mailing di essere lunghi a prezzi corti si potevano ottenere anche in questa maniera questo è stato quindi un compromesso c'era c'era diciamo De Gennis da una parte e Miopada che volevano continuare sul totale confezionato e io invece sullo sfuso come alternativa ovviamente perché se una famiglia numerosa vuole comprarsi il sacchetto delle mele o del sacchetto delle arance per carità liberissimo quindi i reparti così grandi secondo me vengono suori da questo comprobamento le attività ancora oggi un imprinting di esse lunga scusa con l'aggiunta che nel tempo modestamente abbiamo inserito i prodotti locali che prima non c'erano cioè teniamo conto che la rivoluzione anche allora mio padre era il concetto diamogli quello che voglio io ai clienti io avevo il concetto diverso diamogli quello che vogliono loro anche qui filosoficamente ci siamo scontrati ma in quell'epoca ho vinto io nel senso che abbiamo dato non so il latte maremma in Toscana faccio un esempio abbiamo estratto anche estratto è proprio una forzatura ma è una parola giusta molti fornitori non volevano locali non volevano servirci io ricordo delle battaglie anche se non ricordo male con Mena Brea che poi è diventato un marchio nazionale ma non volevano servirci e quindi questo per la parte piemontese quindi piella però il supermercato piella bisognava trovare dei prodotti adatti al piemonte questa è tutta una cosa che ho sviluppato io e che se lunga poi ha mantenuto nel tempo ecco chi oggi ascolta il podcast e ha un'età che non arriva ai 40 anni beati loro danno un po' scontate queste cose io che purtroppo per me anagraficamente purtroppo già lavoravo in quegli anni so cosa significa quello che stai spiegando e che effettivamente erano tutte idee considerate probabilmente sì rivoluzionarie perché non era normale non era normale vederlo nella concorrenza poi sempre parlando della fruttaverdura non dimentichiamo che abbiamo inserito tutta la lotta integrata e tutto il biologico e questo spiega visto che è infatti la domanda spiega la moltitudine e lo spazio enorme adesso ripeto io non ho in essere luna da tanto tempo però così era all'epoca nel senso che tra l'altro non erano il biologico non era rinchiuso in una nicchia ma era sparso per tutto il reparto quindi abbiamo iniziato con Naturama tutta una parte di Naturama per inciso il biologico alla fine della cura Giuseppe chiamiamola così nel 2004 pesava biologico e Naturama pesavano il 10% del cibo che non era proprio banale quindi un numero che si avvicinava quasi ai tedeschi per certi versi io credo che la clientela di Esselunga era una clientela focalizzata su quel tipo lì cioè il nord certo diciamo con delle risorse che cominciava a vedere la cura del corpo e la relazione con l'ambiente in un'altra maniera insomma erano quelli la genesi del biologico è un po' quella in buona sostanza tu copri col tuo arrivo e negli anni di tua gestione quella parte forse carente o meglio carente nell'evoluzione delle metrature dell'azienda che è quella commerciale in buona sostanza il marketing è commerciale faccio un inciso per chi non lavora nel retail non è scontato che ingrandire gli spazi voglia dire avere le stesse redditività è scontato l'opposto cioè di solito le altre redditività è facile ottenerle nelle piccole metrature perché si soddisfano i pochi bisogni e quelli sono in maniamento in cui bisogna ampliare gli assortimenti e quindi andare dalle 10.000 referenze in avanti il problema della alta rotazione è un problema serio quindi è quello che inizialmente non pensato l'evoluzione dell'azienda negli anni 80 era andiamo non negli iper ma verso i 2.000 metri il come lo hai risolto poi tu con la tua gestione che non è scontato ancora oggi se vediamo le performance dei grandi supermercati e ipermercati non tutti ce ne sono alcuni che performano molto bene ma moltissimi che hanno serie difficoltà nella loro crescita quindi è un problema vecchio ma ancora attuale quindi tu operavi proprio hai operato in quell'area lì assolutamente c'è un passaggio che per me è assurdo dal futuristico come si può denominare che è la nascita di S.Lunga casa attuale ovvero dell'e-commerce cioè tu pensi all'e-commerce il momento in cui è appena arrivato internet e va a 56k non esistono gli iphone non esiste niente tu pensi all'e-commerce come ti viene in mente? è che mi viene in mente è forse l'unica novità l'unica impostazione nuova che non viene negli Stati Uniti perché la contabilità industriale che ho applicato alla grande nei superstore veniva assolutamente c'era stata proposta da Unilever negli anni 80 ma non era mai stata applicata e io dalla Domix l'ho portata all'esse lunga moltiplicando la redditività per due volte e mezzo su tutta l'azienda che non è ma ma chiusa la parentesi l'unica l'unica vera novità che non viene dagli Stati Uniti e che viene dal Belgio è proprio l'e-commerce l'e-commerce nasce vedendo quello che fa Deleuze Deleuze era un nostro partner nella centrale di acquisti che si chiamava SED era composta da Sainsbury S. Lunga e Deleuze Deleuze aveva lanciato un chi aveva voluto questa alleanza internazionale chi aveva voluto la partecipazione questa era stata voluta dai Belgi da Olivier Pierre Olivier Becker ed era nata da un contatto tra questo medesimo Becker che adesso non è più amministratore delegato da da tanti anni e Violetta avevano avuto un contatto Violetta e mia sorella avevano avuto un contatto e poi piano piano si era creata questa questa sorta di di alleanza di intesa cordiale perché poi alla fine le supercentrali europee questa qui non ha non ha veramente funzionato però era un buon modo per appunto approcciare delle nuove tecnologie nel caso in questo caso abbiamo visto il sito di Deleuze che si chiamava Caddy Home che fatturava già l'1% totale della catena e quindi io ricordo che prese una pagina del Time dove una copertina del Time dove c'era scritto internet e la portai il mio padre dicendo papà conosci questa cosa e lo sguardo non fu proprio della serie che cavolo mi stai dicendo e insomma da lì poi piano piano con l'aiuto devo dire di De Gennis che conosceva McKinsey formammo un team e studiamo la cosa anche andando negli Stati Uniti abbiamo visto di tutto e di più io e De Gennis e poi abbiamo sfondato Essilita a casa il passaggio intanto l'evoluzione di marketing accompagna anche l'evoluzione di tipo commerciale la carta fedeltà cominciamo i primi si comincia a approcciare il CRM in maniera molto basica però voi eravate gli antessignani sicuramente nel retail italiano di questo e ancora oggi l'azienda gode di una fidelizzazione che non ha pari insomma quindi questa par da impulso a impulso grazie a te e a tua sorella ma allora mia sorella appunto anche lì venne da noi una persona della McKinsey Stati Uniti sempre Tom Wilson Tom Wilson che peraltro dopo sarà presidente chairman di IRI Infoscan non cosa banale ma che useremo IRI per fare anche lì completare la raccontabilità industriale però allora viene da noi Tom Wilson e ci fa vedere una serie di carte che erano usate da una catena che poi verrà comprata da Whole Foods una catena della East Coast adesso il nome non lo ricordo ma Violetta con Tom Wilson e l'ingegnere Giancarlo Pellarin andarono sulla East Coast videro questa questa carta e nel contempo io ho visto quello che stava succedendo negli Stati Uniti infatti S. Lunga e me l'hanno ricordato dei clienti anche qualche giorno fa aveva tutti buoni sconto aveva tutta una serie di cose di offerte in termini anche sia di sconti diretti che abbiamo usato lo sconto cioè tu potevi avere i premi o potrevi prendere degli sconti oppure avevano i buoni sconto per il fronte i buoni sconto vengono dagli Stati Uniti cioè è una cosa assolutamente copiata dalla Dominix ci sono fior di famiglie milioni di famiglie in America che passano la savana i giorni italiani io avevo una fidanzata che lo faceva è vero è vero è così è così senti e quindi secondo te io sbaglio se penso che la somma delle cose positive che ha fatto tuo padre e di quelle positive che hai fatto tu hanno portato alla moderna essere lunga è sbagliato come concetto? no ma io lo dico lo dico noi ci peccato che non ci siamo così trovati soprattutto nel finale perché negli anni 90 abbiamo lavorato anche bene anche sempre su due binari paralleli però abbiamo lavorato molto bene lui faceva e questi super story glieli riempivo Violet era in mezzo che ha fatto delle cose molto anche importanti come tutta una serie di pubblicità che hanno sicuramente elevato l'immagine della catena e quindi era un team che si si completava benissimo purtroppo poi le cose sono andate male quando ci siamo trovati io volevo assolutamente emergere diciamo che anche Violetta avrebbe voluto emergere probabilmente ma non c'è stato verso ecco il libro parla molto della complicatissima relazione fra voi e tuo padre ma te e tuo padre principalmente dettagli molti episodi insomma quasi come dire a rivelare un dietro le quinte che era praticamente sconosciuto e che tu lo palesi in maniera dettagliata circostanziata non mi sembra che qualcuno abbia replicato oggi nessuno ecco quindi i fatti sono riportati il libro prosegue molto su questa su questo dissidio che torniamo alla genesi era qualche cosa che si vedeva già all'inizio dell'ottocento ne abbiamo parlato anche all'inizio di questo podcast e sua voce esplode completamente per anni logorando tutto e tutti all'interno della famiglia non logorando magari l'azienda S lunga però logorando chi viveva dentro la famiglia oggi la storia tra te e tuo padre è una storia conosciuta per chi vuol leggere il libro conosciutissima ci sono passaggi che si potrebbero menzionare le quattro Mercedes coi manager però tu io ne conosco bene due che sono cari amici che hanno vissuto la tragedia tuoi uomini tuoi uomini che hanno vissuto questa tragedia che peraltro io ho scoperto non da essere lunga ma fuori c'è il mercato questa storia epica le quattro Mercedes correva negli anni 2000 un po' in tutto il mercato era una cosa quasi un scandalo che era un punto di rottura praticamente definitivo e comunque da lì poi ci sono state altre vicissitudini oggi la storia è pubblica e è un libro quanto ci hai messo tu a scrivere questo libro quattro anni quindi quattro anni di pensieri di ragionamenti di riflessioni immagino io allora nella realtà io avevo capito che c'era qualcosa che non quadrava nella storia della famiglia quando mio padre diciamo incautamente mi ha regalato gli archivi della famiglia e lì se si scava si capisce che che non è proprio andata così tra virgolette c'è una profondità per esempio nella famiglia la storia della famiglia è una storia che dura 300 anni come dicevo prima la fortuna della famiglia l'ha fatta il nonno Peppino di cui nessuno ha mai sentito aveva fino al mio libro nessuno avrà mai sentito parlare tra l'altro la copertina per chi legge e non sa nulla è una copertina che ha due anime il verde e il rosso sono il colore di un tessuto perché noi da lì veniamo e fa saputo cioè credo che sia giusto saperlo anche per rendere onore a chi ha fatto le fortune della famiglia e che tuo padre fosse un uomo difficile non uso questo termine non non l'ho capito leggendo il tuo libro ma l'ho ascoltato da tante voci che hanno lavorato in esse lunga era un clima militaresco per certi versi di straordinaria efficienza ancora oggi se si vede qualche cosa fuori posto nei supermercati se ci fosse ancora il vecchio Bernardo questo non succederebbe e però dall'altro lato è una storia fatta anche da una dinastia che avrebbe dovuto seguire un corso che tu avevi dato e che poi invece si è interrotto proseguendone un altro perché oggi comunque è sempre in mano la famiglia Caprotti quello che io ti domando è perché abbiamo tralasciato un passaggio non so se ne vogliamo parlare che è di Falce Carrello quel libro lì quando tu l'hai letto quindi dopo la tua uscita dall'azienda cosa hai pensato? allora ho pensato che avrei dovuto querelarlo avrei dovuto querelarlo peccato che il penalista che avevo scelto all'epoca si è dileguato non ha voluto seguirmi non ha voluto e quindi non ho avuto la forza di cercarne cercarne altro però è un libro secondo me diffamatorio assolutamente è brutto doverlo dire dopo che il mio padre è mancato ma è così ecco su quanto mi riguarda ma si potrebbe dire poi per carità sulla coppia no certo si potrebbe dire che il tuo libro forse è anche una risposta a falce carrello ma forse in alcuni passaggi sui prezzi ma sostanzialmente il mio bisogno non viene da falce carrello il mio il mio bisogno viene proprio dalla storia in primis dalla storia della famiglia dalla storia dell'azienda che è stata appunto distorta e anche dalle esigenze mie personali di rimettere chiarezza in quello che è stato fatto da me e da altri a Cesare e quel che è di Cesare senti il tuo libro ha invaso il web soprattutto nella community della grande distribuzione e anche dei fornitori e uno dei commenti che si leggono spesso o che comunque si sentono dire ma perché scrivi adesso il libro senza che il diretto interessato ti possa rispondere allora prima del 2020 per me era assolutamente impossibile scrivere un libro perché perché tutte le questioni penali e civili si sono chiuse tra il 2019 e il 2020 nel 2013 avevo detto la mia cioè avevo rilasciato un'intervista all'Espresso ed ero stato querelato querelato per la questione delle botte a mia nonna e per la famosa perizia psichiatrica nota bene non per i bilanci così piccolo inciso perché dissi che i bilanci erano stati diciamo aggiustati e non ci fu una retta la querela era poi rientrata mio padre aveva voluto mostrarsi molto magnano verso un figlio che aveva dipinto ovunque come un incapace un po' cretino mio padre ha parlato abbondantemente ha detto di tutto e di più tutti dal 2004 fino alla sua morte avvenuta nel 2016 sono stato persino accusato nel 2012 di aver fatto l'e-commerce questo in tribunale e di aver abbandonato la nave Selunga come il comandante Schettino questo per dire che mio padre aveva un po' trasformato la realtà perché lui mi ha revocato le deleghe cosa che nel 2012 aveva dimenticato quindi questo secondo me completa per chi lo volesse completa il quadro ecco questo mio libro ascolta un'altra cosa che si può pensare leggendo il libro ma perché a un certo punto durante tutti questi dissidi viste le difficoltà relazionali che a un certo punto erano praticamente palesi tu in tempi non sospetti non hai abbandonato la nave cioè hai detto ma basta insomma adesso vado a fare o un'azienda mia oppure vado a fare il manager da qualche altra parte a te ti saluto a rivederci perché non l'hai fatto allora innanzitutto perché il mio grande amore era Selunga ma al di là di questo sapevo perfettamente che il mio padre non avrebbe accettato di buon grado le mie dimissioni ed un lavoro altrove come ho già detto prima mio padre non ha mai accettato il fatto di avermi revocato le deleghe cioè non ammetteva la sua cioè aveva trasformato la realtà e e nonostante ciò mi ha fatto una guerra spaventosa cioè una volta che ero evocato le deleghe e che tuo figlio non ha i soldi per fare niente non so che cosa tu possa avere però possa volere però nonostante ciò mi ha fatto una guerra pazzesca e sapevo anche perfettamente che nessuno mi avrebbe dato lavoro altrove nel largo consumo nella distribuzione come di fatto è accaduto dopo il 2004 tutti avevano e hanno paura ancora oggi l'unico vero contatto con una persona molto carina e disponibile è stato in un settore diverso dalla distribuzione e dall'arco consumo ed è stato Leonardo Mondadori quindi per andare a lavorare nell'editoria ma poi non sono riuscito o non siamo riusciti a concretizzarla questa cosa senti sei un uomo noto sul web è una tua sito internet molto conosciuto il tuo nome è molto una famiglia molto conosciuta e ci sono tuoi simpatizzanti e anche dei trattori come tutti noi ne abbiamo tanti no e alcuni quando usano le dita velocemente facilmente hanno anche scritto ma insomma alla fine dei conti il suo padre gli ha lasciato un sacco di soldi e lui ne parla male tu cos'hai da rispondere? allora mio padre non mi ha lasciato dei soldi ma delle azioni e cioè tecnicamente una grossissima differenza però vorrei partire un attimo se me lo consenti vorrei partire un attimo da lontano perché questo è un episodio che non nessuno ricorda mai ma nel 2005 io ho evitato che l'azienda venisse venduta a Walmart che non è proprio banale per il mercato italiano visto che adesso parliamo tanto di sovranismo una cosa che si dimentica e che però mi ha ricordato un caro amico giornalista recentemente perché mi ha mandato un articolo dell'epoca è che lui voleva vendere all'epoca cioè c'è stata una data room in S.Lunga gli americani si sono palesati nella data room cioè Walmart è venuto a vedere S.Lunga c'era era qua solamente che voleva una procura da me e io la procura non l'ho data ho cercato vista la situazione di comprare le quote delle mie sorelle anche questo mi è stato rinfacciato dai vetrattori poi le mie sorelle non lo so non mi interessa tornando poi a anni dopo quindi facendo il salto al 2016 quando mio padre è mancato io non riuscivo neanche a pagare i soldi delle tasse per riuscire ad avere i certificati azionari dell'azienda e però sono riuscito a fare due accordi che secondo me miracolosi e a salvaguardare l'azienda potevamo andare in causa e invece non ci siamo andati potevamo essere in causa ancora oggi con danni evidenti per tutti aziende incluse ho deciso altrimenti e lo bestiamo in te ne sono orgoglioso senti in questa storia dove le dinastie poi si frastagliano dentro in battaglia in Italia ce ne è diverse attualmente nel libro tu hai raccontato tutto oppure c'è ancora qualcos'altro non ho raccontato tutto semplicemente perché Feltrinelli me l'ha impedito giustamente devo dire rendo merito pubblicamente a Feltrinelli e al loro avvocato con cui ho avuto qualche diciamo divergenza di vedute mi ha come dire edulcorato il libro il libro poteva essere anche su episodi che non riguardano la mia famiglia ma io ho avuto un ex dipendente che mi ha fatto stalking per una vita ho avuto tante vicende però poi rischiava di diventare molto pesante ancora più pesante forse di quanto l'hanno trovato alcune persone oppure rischiavamo in alcuni casi delle cause milionari Feltrinelli ha deciso ha deciso per la buona pace di tutti per il benessere di tutti in ritardo quindi è un libro dolce senti ti ha fatto bene scrivere il libro? mi ha fatto molto bene mi ha sicuramente ridato pace interiore pace anche con la mia famiglia e soprattutto con mio padre è una storia di odio e di amore tante volte avrei voluto che mio padre venisse da me e dicesse ma piantiamola smettiamola mettiamoci d'accordo tu vedi le cose in un modo io le vedo in un altro troviamo una sintesi oppure troviamo dei sistemi anche manageriali è mai possibile che un'azienda che all'epoca aveva 13.000 dipendenti non avesse un consiglio direttivo un comitato all'interno dove ci si potesse confrontare no non era così era un'azienda che dove appunto andavamo per due strade che non si incontravano mai e così siamo è finita male tra di noi è andata com'è andata a me mi da curiosità perché io che ho ricevuto da te il libro e di cui ti ringrazio ma poi l'ho anche comprato in versione Kindle no in versione Kindle per leggermela sull'iPad ho messo un commento su Amazon e lo dichiaro ho scritto che è una storia d'amore perché anche l'odio insegna l'amore e quindi io l'ho letta esattamente come tu hai detto adesso e secondo me l'ultima sintesi di questo libro per tutti i detrattori per chi la vuole vedere bene perché la vuole vedere male ma tutto si racchiude a questo per me è solo una storia d'amore e io credo che anche tu l'hai appena affermato e quindi questo deve essere sono convinto che appunto purtroppo in tutti i conflitti che ci sono stati perché anche mio padre ha litigato con suo padre eccetera eccetera sono stati sempre dei conflitti tra persone che la fine si volevano bene e avrebbero potuto trovare delle strade che per andare d'accordo purtroppo spesso non è da un esempio grazie Giuseppe prego il libro scritto da Giuseppe ha raccontato molti episodi nel corso dei secoli dalla famiglia Caprotti sembrava fosse un racconto al passato chiusosi con la morte di papà Bernardo probabilmente non sarà così infatti il 13 febbraio del 2024 uscirà la terza edizione del libro Falce Carrello scritto proprio da patron Bernardo che fu pubblicato la prima volta nel 2007 in questa terza edizione ci saranno anche tre nuovi scritti uno dei quali è di Marina Caprotti attuale proprietaria di S. Lunga terzo genita e figlia della seconda moglie sembra proprio che la dinastia Caprotti non abbia ancora concluso le sue divergenze lo vedremo